buongiorno ragazzi bentornati sul canale oggi è un solo un piccolissimo video notizia chiamiamolo così inerente al discorso del raduno delle 16 17 di novembre so che purtroppo molti di voi magari non hanno social facebook o altro quindi cerco anche di darvi quale informazioni abbiamo deciso che mi piace anche questo l'idea che abbiamo deciso abbiamo deciso fondamentalmente tutti insieme di provare a fare questo primo ritrovo incontro raduno in località porto garibaldi all'area di sosta gratuita che da direttamente in riva al mare e siamo vicino a una fantastica rosticceria che fa delle cose meravigliose niente allora il concetto è questo trovandoci sabato nella giornata di sabato dall'ora che volete fino a domenica all'ora che volete sempre chiaramente per semplicemente stare insieme conoscersi chiacchierare bere mangiare ognuno porta qualcosa mangiamo insieme facciamo delle tavolate fuori facciamo delle tavolate all'interno dei vari camper nessun problema il bello è quello è la conoscenza parlare conoscerci informazioni per quello che posso io ragazzi vi risponderò sempre arcadia aperta quindi per quanto vi possa far piacere vederla dentro per l'amore di dio l'idea è quindi trovarsi mangiare divertirsi passeggiare siamo nella località molto bella e fra l'altro anche poco conosciuta sia porto garibaldi è abbastanza limitrofa con l'ido degli estensi entrambi molto belli anche soprattutto per il porto turistico commerciale io vado spesso giù a fare foto quindi fra l'altro chi vuole io domenica mattina all'alba prendo sulla mia roba e vado a fare foto chi vuole volentieri gradite chi vuole biciclette si raggiunge qualunque cosa tranquillamente a piedi senza nessunissimo problema scusate intanto continua a sistemare una cosa del frigo quindi tutto quello che spero di vi possa servire come informazioni c'è sotto in descrizione vi metto la posizione dell'area di sosta i miei contatti li avete quindi bene o male mi riuscite a rintracciare sia scrivendomi tra virgolette sotto il video oppure nei vari social sapete che tempo permettendo di solito rispondo sempre tutto qua quindi semplicemente trovarsi stare insieme mangiare tante belle chiacchiere e vediamo cosa ne esce ragazzi come al solito cosa dire ci vediamo direttamente al 16 spero di sì alla prossima e vedo che mi mettete a fretta ma non ce la misa volevo solo un piccolo appunto da questa da questa settimana ritorno alla programmazione solita quindi il martedì e il venerdì alle ore 12 la settimana passata ho cercato di agevolare spero il più possibile tutti voi per quanto riguarda il discorso della controllo infiltrazioni gratuito perché era fisicamente l'unica l'ultima settimana disponibile che la caravan service aveva dato per il controllo infiltrazioni gratuito quindi ho semplicemente anticipato facendo uscire il video di domenica quindi mi si era sfasato chiaramente usare la programmazione da questa settimana si ritornerà tranquillamente al martedì e il venerdì so che non ve ne frega una ceppa però io ve lo dico lo stesso